la regina del mediterraneo la gigantesca nave che vedete è una galea può far topo pensate che per farla navigare c'era bisogno di oltre 100 rematori per mille formaggini stagionati la nave era molto affollata infatti i rematori dormivano sugli stessi banchi dove remavano mangiavano e facevano i loro bisogni i rematori non si muovevano mai dal loro sedile e questo causava qualche problemino di naso prima di vederle all'orizzonte le galee le sentivi sì ma dalla puzza la galea è stata considerata per secoli la regina del mediterraneo veniva usata per trasportare merci preziose giare colme di cibo spezie pregiate argento e anche per difendersi dai pirati che fifa felina era veloce ma anche delicata